Ciao a tutti ragazzi e ragazze e eccomi tornata in questo nuovo video. Oggi vi suonerò il pupazzo meccanico, ma prima di iniziare vi volevo dare un'informazione. Anche io partirò per le vacanze e quindi sarò senti su questo canale da domani fino al 27 di luglio. Detto ciò possiamo subito iniziare col suonare il pupazzo meccanico. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo quando sarò tornata nelle vacanze. Ciao!